Sciatica le migliori opzioni di trattamento. Starnuto obesità Diabete stretch in compressione del nervo. La sciatica è il dolore alle gambe causato da un nervo schiacciato nella parte bassa della schiena. Sebbene le doglie iniziano in radici nervose situate su entrambi i lati della colonna vertebrale inferiore, hanno poi percorso attraverso il nervo sciatico, che gestisce la lunghezza di ogni gamba dal gluteo fino ai piedi. La causa più comune è un'ernia del disco, quando un disco si sviluppa una lacrima o crack e sporge nel canale spinale, può pizzicare il nervo sciatico. Di solito i sintomi scompaiono entro circa sei settimane, ma per alcune persone, il dolore può durare. Sintomi Il dolore che si irradia dal vostro inferiore, lombare, della colonna vertebrale alla natica e giù per la parte posteriore della gamba è il segno distintivo di sciatica. Si potrebbe sentire il disagio quasi ovunque lungo il percorso del nervo, ma è particolarmente suscettibile di seguire un percorso dal basso di nuovo al vostro glutei e la parte posteriore della coscia e del polpaccio. Il dolore può variare notevolmente, da un dolore lieve a un forte, sensazione o dolore lancinante bruciore. A volte si può sentire come una scossa o scosse elettriche. Può essere peggio quando si tossisce o starnotisce, e seduta prolungata può aggravare i sintomi. Di solito un solo lato del corpo è interessato. Alcune persone hanno anche intorpidimento, formicolio o debolezza muscolare nella gamba o piede interessato. Si potrebbe avere dolore in una parte della gamba e intorpidimento in un'altra parte. Le cause Sciatica si verifica quando il nervo sciatico viene pizzicato, solitamente da una erne del disco nella vostra colonna vertebrale o da una crescita eccessiva di tessuto osseo, sperone osseo, sul tuo vertebre. Più raramente, il nervo può essere compresso da un tumore o danneggiato da una malattia come il diabete. Fattori di rischio I fattori di rischio per la sciatica includono Età Cambiamenti legati all'età della colonna vertebrale, come erne del disco e speroni ossei, sono le cause più comuni di sciatica. Obesità Aumentando la pressione sulla colonna vertebrale, il peso corporeo in eccesso può contribuire ai cambiamenti della colonna vertebrale che scatenano la sciatica. Occupazione Un lavoro che richiede di ruotare le spalle, trasportare carichi pesanti o guidare un veicolo a motore per lunghi periodi potrebbe svolgere un ruolo nella sciatica. Seduta prolungata Persone che siedono per periodi prolungati o che hanno uno stile di vita sedentario hanno maggiori probabilità di sviluppare la sciatica di persone attive sono Diabete Questa condizione, che colpisce il modo in cui il corpo utilizza lo zucchero nel sangue, aumenta il rischio di danni ai nervi. Teste Diagnosi Esami di imaging Molte persone hanno ernia di schiosperoni osse che verrà visualizzato su RAGX e altri test di imaging, ma non hanno sintomi. Così i medici in genere non ordinare questi test a meno che il dolore è grave, o non migliora entro poche settimane. RAGX Una radiografia della colonna vertebrale può rivelare una crescita eccessiva di tessuto osseo, sperone osseo, che possono essere premendo sul nervo. MRI Questa procedura utilizza un potente magnete onde radio e per la produzione di immagini a sezione trasversale della schiena. Una risonanza magnetica produce immagini dettagliate delle ossa e dei tessuti molli, come ernia del disco. Durante il test, si trovano su un tavolo che si muove nella macchina di risonanza magnetica. Tac Quando un CT è utilizzato per l'immagine della colonna vertebrale, si può avere un mezzo di contrasto iniettato nel canale spinale prima che vengano adottate le raggi X, una procedura chiamata mielogramma CT. Il colorante circola poi intorno il cavo espinale e nervi spinali, che appaiono bianco sulla scansione. L'elettromiografia, M. Questo test misura gli impulsi elettrici prodotti dai nervi e le risposte dei vostri muscoli. Questo test può confermare la compressione del nervo causata da dischi o restringimento del canale spinale, stenosi spinale, discale. Trattamenti e farmaci Farmaci I tipi di farmaci che possono essere prescritti per il dolore sciatica includono Antinfiammatori Rilassanti muscolari Narcotici Gli antidepressivi triciclici Farmaci anti-sequestro Terapia fisica Una volta che il dolore acuto migliora, il medico o un fisioterapista in grado di progettare un programma di riabilitazione per aiutare a prevenire futuri incidenti. Iniezioni di steroidi In alcuni casi, il medico potrebbe consigliare l'iniezione di un farmaco corticosteroide nella zona attorno alla radice del nervo coinvolto. Chirurgia Questa opzione è solitamente riservato per quando il nervo compresso provoca debolezza significativa, la perdita di controllo dell'intestino o della vescica, o quando si ha dolore che peggiora progressivamente o non migliora con altre terapie. Rimedi casalinghi Allungamento Esercizi di stretching per la schiena bassa può aiutare a sentirsi meglio e potrebbe contribuire ad alleviare compressione della radice nervosa. Evitare strappi, rimbalzare o torcendo durante il tratto. Curcuma La curcuma è un altro rimedio naturale efficace per la sciatica a causa delle sue proprietà anti-infiammatorie. Esso contiene un composto chiamato curcumina che aiuta a ridurre il dolore e l'infiammazione del nervo. Massaggio La terapia di massaggio può alleviare il dolore sciatica e anche aiutare il corpo a guarire se stesso, soprattutto se il problema è causato da uno spasmo muscolare. La terapia di massaggio è un altro rimedio naturale efficace per la sciatica e anche aiutare il corpo a guarire. La terapia di massaggio è un altro rimedio naturale efficace per la sciatica e anche aiutare il corpo a guarire.